A chi è rivolto questo il nostro corso di naturopatia? Vi avviso subito, non è un corso amatoriale, è un corso professionale. Quindi è rivolto a chi vuole fare un corso approfondito. A chi vuole un percorso integrato e pratico. Integrato vuol dire dove si collegano le materie, non sono quel pezzo lì finito, poi l'altro staccato, finito. E poi come le metto insieme? Noi cerchiamo di fare un percorso integrato con una parte pratica. A chi vuole usufruire di una lunghissima e solida esperienza naturopatica che sarà trasmessa da me e anche da chi ho formato in anni, oltre a docenti, ripeto, che hanno un'esperienza clinica naturopatica e non solo della singola disciplina. A chi vuole indagare le cause profonde, le cause non solo fisiche ma anche energetiche, dei disturbi e delle malattie. Quindi non lavoriamo solo sul fisico in questa scuola. A chi ama le persone, perché proponiamo un percorso di cuore, non solo della mente e delle mani. A chi sceglie di lavorare un po' su di sé e sceglie di diventare un polo magnetico in grado di supportare altri. Quindi nella scuola poi uno si accorgerà che fa anche un po' un percorso di autoguarigione. Il percorso immersivo, in particolare, a chi è rivolto. A chi ama il contatto con le persone e con i docenti attraverso un'esperienza continua, sia teorica che pratica. A chi crede nello scambio reciproco e nella potenza del gruppo, noi abbiamo persone di Milano che non vengono in aula e a me fa dispiacere, perché c'è un grande scambio. Certo, abbiamo anche delle persone. Abbiamo una persona che viene da, come si chiama? Non dalla Svezia. Sì, ma anche da lontanissimo. Sì, ne abbiamo, cioè, in America, in Africa, nel Nord Europa. E chiaramente loro non è che possono dirgli vieni da SLEO. No, quindi organizziamo delle giornate dove quando vengono possono fare un po' di pratica. Però almeno per chi avesse la possibilità sarebbe importante. Quindi, chi crede nello scambio reciproco e nella potenza del gruppo chi ama studiare e al tempo stesso praticare. Prequalificazione. Cos'è la prequalificazione? Chi è adatto per la nostra scuola e chi non è adatto. Chi vuole eccellere in una professione cambiando la propria vita. Cioè, qua andiamo abbastanza profondi sulle materie. Non stiamo in superficie. Chi vuole una professione che dia il massimo della soddisfazione aiutando gli altri, alleviando dolori e sofferenze. Chi vuole lavorare in proprio, in piena autonomia, in libertà, scegliendo tempi, modalità e orari di lavoro. Una meraviglia. Io ho potuto tirare su quattro figli perché potevo gestirmi comunque, no? Le mie giornate, i miei orari. Chi vuole un lavoro eccellente al tempo stesso avere tempo per se stesso, la famiglia, i figli e le persone a cui vuole bene. Chi è ambizioso, vuole eccellere, è disposto a formarsi per questo. Chi è disposto a un lavoro su di sé per prepararsi a lavorare poi sugli altri. Chi non risparmia sulla propria formazione e sul proprio futuro perché sono le cose più importanti della vita. Mi rendo conto che ci sono scuole che costano meno, ma molto probabilmente danno anche molto meno. Quindi dipende uno da cosa vuole. Chi ha capito che investire su se stesse è fondamentale per crescere come persona e come terapeuta. Chi vuole coniugare il metodo scientifico con tecniche di tipo energetico. Chi non dovrebbe iscriversi? Direte, ma questa è pazza. Invece no, io ci tengo a voi e quindi dite no. Effettivamente io sono in quella categoria, questa scuola non è adatta a me. Chi desidera solo un'infarinatura delle varie discipline. Voglio un pezzettino di carta, un po' di infarinatura. Non venite qua, perché voi qua vi trovate male. Noi non facciamo le infarinature, andiamo abbastanza approfonditi. Chi desidera lavorare solo sul corpo e non su tutti i livelli. Corpo, mente, emozioni, spirito, energia. Noi lavoriamo su tutti i piani. Chi vuole lavorare solo per dimostrare il proprio valore, ma non è profondamente interessato all'altro. Chi non è disposto a fare un lavoro su di sé per essere pronto ad aiutare gli altri. Chi vuole la bacchetta magica e non è disposto a impegnarsi per ottenere ottimi risultati. Bacchetta magica qua non ne abbiamo. Chi si fida solo del metodo scientifico e non desidera apprendere anche delle tecniche più energetiche. Così sapete dove...